L'8 dicembre le strade della città di Agropoli si coloreranno di rosso. Infatti per la prima volta arriva in città Bubble Running, manifestazione organizzata dall'associazione Pegasus con il supporto dell'associazione ABC Agropoli Bene Comune e il patrocinio del comune di Agropoli. L'iniziativa prevede una corsa camminata di due chilometri che partirà da Lungomare San Marco e arriverà nella centralissima piazza Vittorio Veneto. Il Bubble Running è un evento che principalmente si svolge, si sviluppa su al nord. Diciamo che le principali città sono Milano, Torino e Firenze ma ce ne sono tante altre. Portare un evento del genere qui nel sud è una scommessa, una scommessa che noi tutti vorremmo portare avanti. Perché? Perché il colpo d'occhio, io l'ho vista a Milano, è stata una cosa bellissima. Perché non fare una cosa del genere anche ad Agropoli? Ci manca qualcosa? No, non ci manca niente. Ci sono i ragazzi come stanno su al nord, ci sono le persone anziane come stanno su al nord e ci sono i bambini che partecipano anche loro. Un evento del genere penso che va visto con un'ottica tutta particolare, cioè va vista come un evento di divertimento, di affiliazione, di essere tutti assieme, tutti uniti e ci preannuncia anche il Natale. E poi il colpo d'occhio, vestiti tutti da Babbo Natale, io penso che sia unica una cosa del genere. Inviterei un po' tutti, quelli che vogliono partecipare, le famiglie che vogliono partecipare, di non affollarsi il giorno 8, di non venire il giorno 8 a fare le iscrizioni, perché tra l'altro debbono vestirsi, indossare i costume del Babbo Natale, ci vuole un po' di tempo. Sicuramente i tempi sono ristretti, tra iscrizione e partenza sicuramente si creerà un po' di confusione. Tra l'altro sabato o domenica, se ci sarà la possibilità, con il tempo, augurandoci una buona giornata, possiamo fare anche noi in piazza delle prime iscrizioni. Mauro Gervasio è stato sempre impegnato per il sociale e per le tante manifestazioni che ha organizzato nella città di Agropoli, coinvolgendo tantissime famiglie. Sono queste le parole del consigliere comunale Agostino Abbate, che con l'associazione ABC Agropoli Benecomune supporterà la manifestazione Babbo Running. Sono venuti invece qui proprio per elogiare quest'uomo, questo signore di Agropoli, che da tanti, tanti anni si dedica a questi eventi sportivi e questi eventi ludico-sportivi, con una capacità più unica che è rara, ma soprattutto con una sofferenza più unica che è rara. Che cosa voglio dire con una sofferenza? Cioè Mauro va girando, organizza tutto, a un certo punto viene anche sospettato su di lui che la raccolta fondi possa servire se mai al limite come un sofferenza più. Invece no, Mauro ci sta mettendo l'anima da anni. Lo fa questo praticamente con passione, lo fa sempre per delle associazioni giovanili, soprattutto per i bambini e per le famiglie completamente. Quindi sono venuto per elogiare quest'uomo che deve avere ancora la forza di poter fare questo per la città di Agropoli. Abbate inoltre propone di realizzare presso lente comunale uno sportello unico degli eventi che possa organizzare a 360 gradi le manifestazioni. Ad Agropoli, una città turistica, una città importante come la nostra, Agropoli ha bisogno di organizzare questi eventi ma con metodo, quasi in modo strutturale. Quindi è quasi giusto che ad Agropoli incominci a sorgere uno sportello unico degli eventi, c'è uno sportello unico, un ufficio comunale che si possa dedicare in realtà a fare un po' quello che ha fatto Mauro per un singolo evento. Invece no, va fatto questo ma per tutti gli eventi che dovranno manifestarsi in Agropoli. E di fatti una città turistica come questa vive di turismo, vive di visite di ospiti stranieri, non autoccoli, cioè non di Agropoli e di conseguenza deve essere ben organizzato. Gli eventi servono anche per far conoscere la nostra città, la nostra storia, la nostra cultura, le nostre piazze, quindi un organizzatore preciso, puntuale, saprà praticamente dislocare questi eventi non solo nel corso delle varie mensilità ma anche nel corso delle location in cui fare questi eventi. Però l'organizzatore di eventi, in questo caso Mauro per il nostro evento, negli altri casi il comune per tutti gli altri eventi, creerà le occasioni. Poi ovviamente i commercianti faranno la loro. È possibile iscriversi alla manifestazione di Babbo Running anche nei seguenti punti Bar Il Buco, Largo Libro, Bar Espressione Caffè, Fiori e Pianti Adriana e Bar Premier.